Degrado e sporcizia in Contrada Rinella a Favara. Interrogazione di Giuseppe Nobile. Il consigliere comunale PDL chiede all'amministrazione comunale di intervenire sul bevaio che secondo Nobile versa in totale abbandono. La Contrada Rinella di Chiala Nobile è una zona molto trafficata nel periodo estivo. In riferimento al bevaio, il consigliere del PDL in una nota scrive Il sito è diventato una discarica a cielo aperto dove la gente scarica continuamente rifiuti e anche tossici. Oltre al sindaco e all'assessore a ramo, il consigliere si rivolge anche al dirigente comunale di settore a cui chiede altresì anche la predisposizione del servizio di raccolta dei rifiuti e la pulizia delle aree verdi.